Il progetto parte dalla volontà di voler comunicare il nostro patrimonio archeologico alla nostra cittadinanza e in particolar modo a un pubblico dei più piccoli che saranno poi i visitatori del futuro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Alla lezione teorica serve una lezione pratica, quindi una simulazione di scavo archeologico all'interno del museo, nelle sale del museo, in modo tale da far capire che cosa succede dopo che è avvenuto uno scavo archeologico e dove i reperti vengono trasferiti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS